Salve a tutti cari amici di The Abusive Game Amici ma soprattutto amiche di The Great One e di The Abusive Game E mascherati e mascherate di The Rock e di The Abusive Game Qui è l'artefice Jake in compagnia Lo specialista Michel E la remita Pepigno E vi diamo il benvenuto in questo terzo episodio con la saga di The Rock The Great One su WWE 13 E ci eravamo lasciati con questo match che a mio avviso è abbastanza impegnativo Io ve lo ricordo per chi non lo sapesse però devi tornare indietro The Rock vs Mankind 15 novembre 1998 a St. Louis Missouri Lo show è Survivor Series Il palco fu preparato per due uomini con una grande bramosia di vincere il loro primo WWE Championship Il prescelto di Mr. McMahon sembrava essere in ottima posizione per la vittoria Tuttavia un sorprendente finale e un'inverosimile alleanza Cambiò il corso dei mesi successivi in WWE Vinci per schienamento sotto missione e fin qui sarebbe facile Ma devi anche colpire Mankind con una sedia almeno 6 volte Eseguire una People's Elbow Eseguire una Rock Bottom E portare i danni di Mankind a livello moderato ed eseguire una Sharpshooter E il problema qui è la Sharpshooter Esatto Stavamo vedendo le immagini di Vince McMahon della federazione E quale migliore occasione per metterci qui anche noi E seguire l'ondata di tutti i fan della WWE italiani Che in questo momento tutti stanno facendo gli auguri a Pose Franchini Per i loro vent'anni di commento La WWE ha perfino mandato una cintura di campione con il loro nome e il logo di commentatori E perfino Stephanie McMahon ha mandato un messaggio su Twitter a Posa Congratulandosi per i vent'anni Ma Franchini no No l'ho visto adesso solo Posa Sarà arrivato anche a Franchini perché di solito quelle cose lì gli arriveranno in doppio L'unica cosa che mi sento di dire è Megoglioni Bravi complimenti Ma anche noi è arrivato No noi è arrivata una cippa È arrivato No ci ha fatto gli auguri Dan Peterson Che prima o poi arriverà e ve lo sicuro arriverà su questo divano E' più facile che su questo divano arrivi quell'altro Dan Peterson No quell'altro Attenzione Non era un DDT Pensavo facessi un DDT Mi sembra più oliato del solito eh The Rock No io so che anche gli auguri sono arrivati anche a A Christian Ricalcati E Ciccio Valenti Per gli anni d'oro Del grande reale Gli auguri di chi sono arrivati Che ha fatto gli anni Di coso Che è che glieli ha mandati Berlusconi Che il Dragon qua Shenmroll Ken Shenmroll Ormai è stato Io farei Shenmroll Che io farei causa da WWE Perché ho dimenticato proprio Voci Voci Non sono ancora confermate Dicono che Lo showcase di WWE 2K 2022 Sarà su Ken Shenmroll Ah eh no Infatti immaginavo cazzo Ma pensa che io invece avevo sentito voci Che è per quello che ci ha messo così tanto Perché è talmente lunga la carriera di Di una solo la campagna Dure 50 ore È per quello che quest'anno è saltato Io ho sentito il contrario Voci che dicono che Dalla federazione Cioè le dirige Gli altri dirigenti Continuano a domandarsi Ma chi cavolo era Sto Shenmroll Dicono che è un'invenzione Inventata Che a loro Non risulta essere mai Iscritto Nessun Shenmroll Nella loro Bah Comunque mi stupisco Perché Dopo tre minuti di video Tu hai detto ben due volte La parola federazione Correttamente Eh beh Sai Essendo un membro Della federazione Così Alto In grado Ho già imparato Ma non mi piace Quando la dici giusto Mi fa molto più ridere L'altra versione No 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 Una Due Che poi non è La federazione di Miami Ma è quella di Stanford Eh Perché Se era quella di Miami Era la federazione Siamo già messi malissimo Sì ma infatti Ma sangue Non può solo un DDT Tra l'altro The Rock L'ho visto proprio L'altro giorno Dove Eh appunto Fatemi finire Ho guardato Il DVD Di Jumanji Ma l'uno o il due Ma tu Peppino L'uno è quello dove c'era la cosa Roby Williams No Ne hanno già fatti due Ah ok L'uno Ma tu Peppino Che sei Anziano quanto me Preferisci quello di Roby Williams O quello di Derogh Oh De Roby Williams Perché l'ho guardato il giorno prima Bravissimo Che cazzo di domanda Ho guardato il giorno prima Ma era molto meglio C'è tanta gente che preferisce Quello di Derogh Ma si prende la scala Che non mi La sedia Pensa che I miei nipoti Ti preferiscono quello di Derogh Eh ma perché Non hanno in mente No Pur avendo visto Quello di Roby Williams Il giorno prima Ma sai perché Peppino Perché io e te Quello di Roby Williams L'abbiamo visto Tanta volte Facevano solo quello Una volta E comunque C'erano sei canali Una volta E comunque Robin Williams Con la barba Quando scende in casa È sempre lui Sono tornato È semi Zane Esatto A proposito di Jumanji Lo sapevate che il Il papà È lo stesso ottore Che fa il cacciatore Quante cose si scoprono su Facebook No ma io lo sapevo Oh la sedia Da nulla Salta Rimbalza nel ring Magari non su Facebook Ma su Wikipedia Però si la sapevo Ho perso il conto Di quante sediate Gli abbiamo andato Eh ma io non riesco più A prendere la sedia E tra l'altro Ho visto Non ci avevo mai fatto caso Ma In Jumanji Questo qui Lidero Il primo lì C'è un riferimento Al Jumanji Vecchio Perché c'è Roby C'è Alan C'è Scritto sul muro O no Sì La capanna È stata costruita Da Alan Dove loro trovano L'avviatore Lui vive in questa capanna E loro gli hanno domandato Se l'ha costruita lui E lui fa No c'era già Quando sono arrivato Infatti sulla scritta Sul muro C'era Alan Ferris Ed era evidentemente Il bambino Alan Parrish Quanti obiettivi Mi hanno fatto Uno Non per bacco Mi hanno dato sei sediate Il problema È che sono Mosse finali Speciali Le prossime da fare Quindi Eh ma siamo partiti Male 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 Se siamo qui Che siamo Siamo partiti Con un sanguinamento Dopo tre secondi Di match Comunque io invito Nuovamente Voi giovani Se non avete mai visto Il Jumanji originale Di guardarlo Perché Secondo me È tantissima roba Per l'epoca E stiamo parlando Del 94 95 98 98 No forse troppo Lontano Troppo Ma del 95 Degli effetti speciali Fuori di testa Ma chi era Il regista Roby Williams Roby Williams No Tra controllo Dai per curiosità Così vediamo anche In che anno Io invece L'altro ieri Ho visto Soprattutto è molto Attinente Con quello che Stiamo facendo Esatto Io invece L'altro ieri Ho visto Staris Burn Sborn Burn o Born? Born 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 Burn è Bene È un film del 95 Diretto da Joe Johnson 95 Joe Johnson Proppi non avrei mai saputo Joe Johnson È parente di Dwayne The Rock Johnson Esatto Vediamo sia il padre Tutto torna Tutto torna Dai dai La seconda volta È quella buona No come ricco Sempre io Bisogna aspettare Oltre la quarta Allora perdi subito Perché No perdiamo Veramente solo tempo No no dai Questa la facciamo giusta C'è un attimo Di riscaldamento Poi ci sono Pensate che nel 95 Stava Nascendo La La saga Di Kane Shemrock Eh comunque Gli daresti un occhio A Star is Born Eh A fine dell'anno Ne parleremo Ok Quindi questo è per ricordarvi Che tra poco più di tre mesi Ci sarà Consueto E annumale Appunto Saremo qua ancora Quest'anno Devo riesumare I film visti alla tele Perché al cinema È andato due volte Saremo qua ancora A parlarne o O saremo fermi Con che senso Eh mi sa che non riusciremo A fare quella Quella puntata La faremo in videoconferenza Giusto il tempo che corrono Apri un nuovo lockdown Ma beh Mi sa che qua tutto si ferma ancora prima Ma sì va bene Il problema è che io non potrò più eluderlo il lockdown Perché Finché era da rocca a rocca ce la facevo Ma da chi aria a rocca è difficile E vorrà dire che Andremo a cazzo del tesoro Per chi ci ha seguito Non c'è problema Per chi ci ha seguito Durante la quarantena Avrà capito Perché il famoso tesoro Non avrà mai più stato trovato Oh comunque è fortissimo Ste cazzo di Mankind Ma ti ricordi come si chiamava l'amico Che avevamo conosciuto durante Eh no Tattica di Blue Eh forse sì Ma prendilo Eri tu Tattica di Blue Un saluto sono Eri tu Sperdonaci Scrivici il tuo vero nome Fracassalo di sediato Ecco esattamente così Bravo Ma dai Cristo Santissimo di Dio Non vale lo stesso Tre Prendila Porca puttana Uno No uno glielo già Ma si è già rotta Ma cosa è sta roba Battista Ma una volta Eh però no Così eh Così no però Mi hai rotto Eh vabbè Sì dai Sì dai Fai tutto tu Fai tutto tu Ma è plausibile che dicono Rocky Sucks Per me dicono Rocky Sucks Perché è impossibile che dicano Battista Battista non lo dicono Dicono Rocky Sucks Adalè Adalè Sarà un'intera puntata Dedicata a questo match Per i più affezionati Per i più affezionati vorrei ricordare la puntata in cui abbiamo dovuto affrontare i Blood John Brothers Che è la stessa puntata in cui ci siamo ricordati come Peter Griffin non sapeva più come sedersi Ma di questo passo credo che passerà più la storia questa Io vorrei ricordare anche un altro evento storico Il famoso Daniel Bryan contro Kane L'episodio del muletto Anche lì Anche Devo dire anche Secondo me è meglio perdere Sì sì anche secondo me Ti sei uscito dello schienamento Eh io non so se Se non volevo Eh vabbè Se dovevo Non uscivo Adesso che potevo perdere Sono uscito Era difficilissimo uscire Guarda che roba Guarda che roba Che roba Mai successo Non ce la faremo mai Dai Non essere positivi Eh ma non sa più neanche correre Sì ma è più veloce lui con i pugni Che tu con la sedia Per effettivamente Il pugno ce l'hai attaccato la mano Sì però Il pugno ce l'hai attaccato la mano Ma è di qua Ma è di qua Ma è di qua Dai è il primo match Non cominciate a farmi Incazzare il primo match Cosa sta facendo Ti lecca le ferite Ma sono diventati un drago E vi ricordo che non c'è assolutamente bisogno Basterebbe non schiacciare nulla Perdere E andare avanti Preso eh Districcio Oh oh Esegui la people Oh be' Ormai è fatta eh Basta sei volte La parte più difficile del match Eh ma come si fa A reversare E tra l'altro ho notato Che tutte le volte Che nel gioco di Jumanji Lui ricompare Quando arriva giù Atterra sempre Nella posizione del granchio Non credo che sia un caso eh Perché deve caricare la fincia Ah qualche amico Nel video precedente Ci ha redarguito Perché non sappiamo un cazzo Cosa peraltro vera Dicendoci che era Ovvio che ai tempi La sharpshooter Era una delle mosse Più utilizzate da The Rock E quindi? No Dice che non lo sapevamo Hai ragione caro amico Ne prendiamo atto E pazienza Eh Non accadrà mai più eh Che lui Quando deve uscire Lo schermetto Riesca ad uscirne Ma non carica più Lo speciale Eh vedi è un bug Ce l'hai ce l'hai Ce l'ho ce l'ho L'ho reversata amici L'ho reversata amici Rock button No Eh spinebuster Scusate Adesso fai la robot No il people No me l'ha reversato Me l'ha reversato Me l'ha reversato E addirittura adesso Mankind ha due finisher C'è gente veramente Che ai tempi Non era ancora nata E non sa come è finito E non lo scoprirà mai Perché noi non riusciamo Ad andare a live Se seguite noi Non lo scoprirete Guardate qualcos'altro Andate su wikipedia Eh vabbè c'è il road break Però Eh grazie gesù Grazie gesù Grazie 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 Oh ma Pazzesco Pazzesco Credibile Incredibile Non riuscire a dargli Sei sediate Ma da Sulla sedia Giusto giusto Non vale così No Due si schiantano in frontale nel frattempo quindi questo gioco ha la possibilità di avere a schermo due sedie dai figa dai però due sedie contemporaneamente penso qua ma non ci hai fatto niente ma non ci hai fatto l'ho preso ma non ci hai fatto niente l'ha preso e non si è fatto niente noi ma soprattutto è un sacco di tempo che non riceviamo più messaggi su instagram su facebook sotto nei commenti di ragazze non so perché mi sia venuta in mente questa cosa proprio in questo momento però fatevi sentire fatevi sentire che la comuni che la comunità femmina faccia sentire che c'è anche la camus che ci segue fate sentire che la comunità femmina è sempre presente scriveteci assolutamente perché prima era fior fior di che non venga mai detto che questo canale è solo per maschi eh abbiamo anche noi le nostre quote rosa assolutamente la camusso che ci segue sempre salutiamo la camuni la rosa camuna la signora rosa camuna ci segue dalle valli bergamasche da borno ci segue da borno saluto a tutte le ragazze di questa community a tutte le ragazze sono tremendo pensate che stiamo già andando nella van spettacolo perché qui non si riesce a fare niente altro io vi ricordo che nel fine settimana troverete oltre ovviamente a questo video anche la prosecuzione ammesso che anche lì si riesca ad andare avanti con la remastered di All Remake per meglio dire di Mafia 1 quindi ho visto che ci segue anche Tommy Angelo su Youtube esatto notai notai addirittura ci scrive Tommy ma che c'è guardia a fare bravo Tommy quindi volevo chiedere a Tommy Angelo cosa ne pensa di WWE 13 ma in particolare di questo match che non si riesce a terminare è un gioco che a me mi fa imbazzire dalle riciate specialmente quando gioca quel tipo lì che come si chiama Jack 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 l'artifice Jack bellissimo ma si chiandate le riciate non sa giocare nemmiche quello ragazzo lì però è bravo io volevo chiedere eventualmente c'è possibilità di un aiuto da parte della mafia per portare a termine gli obiettivi richiesti ce l'ho tutti gli aiuti che vorrei la mafia non rifiuta mai i favori sono a gratis questi favori non proprio a gratis però possiamo fare trattamenti da amici no? io faccio una cosa a te tu fai una cosa a mia io faccio una cosa a te tu fai una cosa a mia tu fai una cosa a mia e io faccio una cosa a te non ho capito bene le ultime frasi tu fai una cosa a mia e io faccio una cosa a tia ah ok adesso mi è più chiaro quindi se lei riuscisse eventualmente a farci fare gli obiettivi storici bonus io cosa dovrei fare? mia io gli obiettivi te li posso fare anche a fare unica cosa che te posso di è cambia il giocatore vale una mia non credo che gli altri due siano un attimo meglio orco è massimale buona come disse poco fa Peppino la quarta volta sarà quella dalla quarta in poi possiamo sperare in bene no ma non si può sono così schifosi eccolo subito DDT e si parte alla grandissima figa come godo che presa che ha stai ma infatti c'ha le mani con le ditte a zigranare guarda che roba guarda che roba incredibile poi io non devo incazzarmi non devo guarda eh guarda eh eh figo una prendi quella lì prendi quella lì e io che stavo andando lì sotto tutte le volte a ringhe quando erano qua due dove corri godo godo la prendila ancora perché giuro che schiaccio talmente forte x che mi entra il dito nel nel controller dalla 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 potenza che voglio scagliare la sedia ciao bocca un attimo impastata per cortesia dovrei portare avanti uno show non fatemi ridere di guai di là guarda che c'è la scelta e portarci a casa dalle speciali e delle finali sinceramente io mi riferisco orici di mare un granchio resta un po' qua ma i granchi sono facenti parte della comunità di Miami e per chi e per chi non poteva fare un riccio perché appena le survival series si giocheranno a catania mi ricordo che a palermo mangiai di quei ricci da bambino chiede scusa Tommy Angelo ma dai da bambino come le aveva i capelli ricci ma dai guardate che battute devo ricorrere per temporeggiare e comunque vedesse che basta chiedere l'aiuto arriva e che comincia andando meglio gentilmente Tommy Angelo potremmo avere degli aiuti per vincere questo obiettivo storico bonus ma mi informo chiamo chi di dovere grazie la ringrazio non ho soldi per pagarla ma la ringrazio ma risolviamo comunque anche senza soldi non è i soldi che la mafia cerca cerca nuovi adepti va bene tu mi fai un favore a me io li faccio un favore a te degli amici mi hanno già pseudo spoilerato che nel capitolo 5 di mafia ci sarà una gara con le macchine scusi un attimo poi basta chi sarebbero questi infami che spoilerano non si spoilera questa è roba da infami attenzione pippo selbo e quindi l'obiettivo storico numero 2 si va reale che vai ci ha un ciappi sulla sedia ma scusi don Tommy angelo ma sta scherzando io la fissi io la fissi bisogna raffare un giocatore ma figa ma che l'ha messo dentro chi a far cosa vorrei cortesemente ce l'avevo ancora però vorrei cortesemente una clip che mi venga mangiata nel gruppo telegram perché questa è fantastica mamma mia e in cambio cambiamo il giocatore eravamo arrivati bene cioè dio mancavano ancora 4 obiettivi dopo sì però su una strada buona era e e se non dimostri quando vali alla mafia che non ci servi ecco questa è la ricombenza io non ho parole veramente se non te dai da fare inciampa la mafia che vuole morto abbiamo anche il rick flair nel frattempo un cane non si capisce cosa è anche un cane effettivamente abbiamo qua il cane di rick flair comunque dicevo ci hanno spoilerato che nel capitolo 5 di mafia ci sarà una gara automobilistica da giocare assolutamente in modalità in difficoltà classica in modo che quest'uomo spogli una volta per sempre esatto oh mio non mi agisce questa cosa degli infami che spoilerano non ce lo sa si è volatilizzato un pezzo di scala vanno giù vanno ormai i video degli abusive si sormontano leggero 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 ho capito leggero nel vestito migliore orco porco ma non si può orco porco ma non si può come stile di vita eccola 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 spinebuster che non serve però ma è il preludio alla alla people's elbow preludio e non inciampare che c'è la sedia e non scivolare mi raccomando guardane guardane no va di là va di là va bene anche lì qua adesso rock button dobbiamo caricare anche quella però quindi dai leggero è già una buona cosa è un passo più avanti per arrivare a livello moderato ed eseguire la sharpshooter adesso dobbiamo solo portare un po' di legna in cascina avere un'altra finale fare la rock bottom ce l'abbiamo ok ok signori ok spinebuster spinebuster che è il preludio alla rock bottom rock bottom eseguita moderato siamo moderato arriva Vince e come tutto già visto perché non è qualcosa di nuovo esatto in qua c'eravamo e quindi siamo finalmente arrivati alla scorsa puntata figa veramente ah signore vai vai la faccenda adesso è molto 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 interessante adesso vediamo sta sharpshooter mankind è la speciale possiamo reversagliela se siamo bravi ci ha bloccato nooo non siamo stati bravi nooo fa che adesso serve nonisce madonna aveva visto come era piccolo ma non conta l'arbitro vero no c'è il bug attenzione devo fare la la attenzione ha funzionato attenzione faccio le corde si però non devi vincere ha ceguito grazie don rispondo allora ragazzi a buon rendere scusa era il loro piano fin dall'inizio ci hanno fregato tutti people povero diavolo stagione 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 in this very ring. If there's one man who has any more contempt for Stone Cold other than myself and all of you it has to be the man who absolutely loathes and detests each and every one of you and that is The Rock. The Rock is great but Dad to lose this match I had to be pinned or submit and The Rock did neither. Mick, you don't get it, right? Get this, okay? Ladies and gentlemen the world wrestling champion the corporate champion ladies and gentlemen The Rock quindi ha sbloccato il championship 98 2002 quindi dall'essere contro Vince a un'erci con Vince penso che prima di andare avanti abbiamo il bonus che è X-Pac vs The Rock 23 novembre 1998 a San Jose California lo show è quello di Ro otto giorni dopo il Survivor Series Mr. McMahon nominò un nuovo commissario della WWE The Heartbreak e Shawn Michaels ma Mr. McMahon rimase sotto shock quando il primo atto di Michaels come commissario costrinse The Rock a un match WWE Championship contro il vecchio amico di Michaels X-Pac porta i danni di The Rock a livello critico esegui una mossa finale uno schienamento entro 10 secondi pensa un po' siamo X-Pac Sean Waltman 1,2,3,kid X-Pac chiamatelo come volete ma è sempre quello meno qua the following contest is for The Rock well I guarantee you one thing this is not a match The Rock planned on we can thank the new commissioner of WWE Shawn Michaels for signing this match what do you mean thank you The Rock well I'll tell you what anytime I can see a WWE Championship match I'm for that and doggone it X-Pac deserves the opportunity whether he's Shawn Michaels friend or not I don't think Mr. McMahon makes many mistakes but I gotta go out on a limb here and say he made a mistake hiring Shawn Michaels as the commissioner of the WWE beh non avrei tradotto commissioner però va bene commissioner c'è bisogno di dire commissario commissario non gradiva come parola mi suonava male wow che esordio per X-Pac su questi schermi ma solo quello si fa solo quello fa beh però lo fa bene pensa se lo faceva lo faceva comunque male mi ricorda quando aveva imparato a dire arm drag nei commenti e che vedeva solo quelli pensate che nell'unico match che ha fatto nella federazione di Milano conosciuto come ha voluto imparare a fare gli arm drag e vi ricordo di nuovo l'aneddoto che a un certo punto il buon Maurizio Plebani conosciuto anche come come Horus l'assoluto presa in mano la situazione e lo eliminò perché nessuno si era più preso la briga di eliminarlo era stato fortunato che ha preso in mano solo la situazione ma riconoscendo Horus prendeva in mano altro e comunque l'altro giorno ho trovato il video sul telefono ce l'ho eh il video del mio del mio match allora però era una diretta ti chiedo a nome di tutti di pubblicarlo perché tutti lo vogliono ma siamo sicuri che non l'abbiamo messo su Instagram non lo so poi comunque si vedeva male perché era tratto da una diretta leggero quindi poi ci sarà moderato e poi critico quindi il match secondo me si rivelerà abbastanza lungo moderato vai a schienarlo 5 4 si bravissimo e quindi parte la cutscene di Vince McMahon che arriva a bordo ring che distrae l'arbitro in modo che arrivi addirittura Shawn Michaels il commissioner anche lui d'accordo con Vince McMahon incredibile incredibile c'è un gravissimo problema però in tutto ciò non abbiamo fatto l'obiettivo già che era portarlo a critico critico ok possiamo alzarlo il problema è che adesso devi fare esatto la finisher e lo schieramento ed è fatta ok perfetto ecco ecco attenzione però perché mancano 5 secondi 4 secondi 3 secondi 2 secondi 1 secondo ma non è tutto perso però devi rifaglierla dall'inizio e infatti subito una nuova speciale per X-Pack per avere una nuova finisher e schienare The Rock wow abbiamo schiantato proprio The Rock l'abbiamo demolito quindi riguardiamoci la Cazzi in arriva Vince McMahon con la sua andatura caracollante che distrae l'arbitro in modo che il commissioner Shawn Michaels salga sul ring switching music ai danni di X-Pack il suo protetto addirittura sposta The Rock e si va per lo schienamento tutti dalla parte di di McMahon sbloccato X-Pack quindi era abbiamo finito The Great One si ragazzi addirittura finito The Great One finito The Great One e l'ultimo era X-Pack da sbloccare quindi adesso ci sarà la saga di Ken Shamrock immagino spero eh no c'è l'odioso Mankind ragazzi l'odioso Mankind e poi chissà chi manca di questi lui ci sarà eh infatti cazzo non può non esserci tutti infatti la DX Austin Taker Kane in ogni saga abbiamo affrontato Ken Shamrock che sarà il boss finale il boss finale Matti Ken Shamrock in tre minuti in difficoltà epica ragazzi io continuo a dire se mi è possibile che quello che mi è piaciuto di più è quello di Austin para adesso The Great One non mi ha scaldato il cuore no vabbè ma Austin era anche la la storia la più bella secondo me para adesso perché poi quando arriverà era là Ken Scenero che l'hanno tenuto posta per ultimo sarà tanto ma è l'ultimo ultimo è quello dopo eh sì però questi sono filmati però mi sa questo è bloccato qui vedi che c'è una crepa in mezzo lì non so cosa sia questo non ditecelo cortesamente no ce la crepa perché poi c'è proprio la saga Ken Shamrock e quella da sola proprio ragazzi quindi la saga di The Rock finisce qui guardatela completato al 100% ci vediamo settimana prossima con la saga di Mankind Speriamo che non faccia schifo la sensazione è quella però speriamo io non voglio di giocare ma Ken è forte per oggi è tutto dall'artefice Jack ero specialista Michelle alla prossima ciao belli seguiteci su mafia baciamole mani grazie a tutti